Il senatore Luciano D'Alfonso questa mattina ha illustrato in conferenza stampa il contenuto del suo emendamento inserito nello schema del decreto legislativo approvato dal governo il 4 agosto scorso nell'ambito della legge delega 134 del 20 settembre del 2021 per la riforma della giustizia penale. Il provvedimento riforma l'attività di documentazione svolta nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria attraverso le sito, ovvero le sommarie informazioni che le persone informate sui fatti sono tenute a rendere senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere e senza la garanzia della presenza del loro legale di fiducia non essendo iscritte nel registro degli indagati. La novità riguarda infatti che le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria potranno essere registrate contro il pericolo di errori, pressioni e abusi. Il prossimo obiettivo, ha spiegato il senatore D'Alfonso, è quello anche della videoregistrazione. Quando abbiamo presentato il progetto di legge a più firme, con me primo firmatario, che obbligava alla videoregistrazione delle assunzioni a sit delle persone informate sui fatti, l'obiettivo era quello che questo contributo di verità che danno le persone informate sui fatti non dovesse essere segnato da paura, da intimorimento, da incertezza. Al di là adesso della buona fede che non viene messa in discussione di chi opera per conto della giustizia, ma la videoregistrazione, questo chiedevo, oggi diventata fonoregistrazione, diventa un elemento di garanzia della memoria remota affinché non ci siano sorprese nel corso della trasformazione da procedimento in processo. Noi abbiamo raggiunto un risultato, rispetto a quello prefissato siamo all'80%. Continuerò a lavorare affinché contribuire all'accertamento della verità sia davvero una ragione di libertà, una ragione di verità, senza condizionamenti. Oggi questa norma, assunta dal progetto di legge da me presentato, è diventato emendamento del governo che poi è entrato nel decreto attuativo riferito alla riforma del processo penale. Io continuerò a lavorare affinché, per esempio, sia non su richiesta della parte convocata, cioè del cittadino convocato per essere assunto a sit, ma sia un automatismo obbligatorio e aggiungeremo anche la ripresa video. Per adesso c'è soltanto la ripresa, diciamo, riguardante la voce, l'audio, nell'interezza di questa ripresa, perché noi vogliamo che la memoria remota sia a garanzia sia dell'ordinamento ma anche della persona e del cittadino. Tutto quello che aumenta la libertà è valore. Tutto quello che aumenta la verità nell'accertamento della verità è valore.